La BCE ha deciso di alzare i tassi di interesse di mezzo punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, quello sui depositi al 3% e quello sui prestiti marginali al 3,75%. Nel comunicato la BCE non ha parlato di prossime mosse ed eventuali rialzi, ma questo dipenderà dai dati in arrivo. Il Consiglio direttivo della BCE segue con attenzione le tensioni in atto sui mercati ed è pronto a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro. L'inflazione dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato. Pertanto il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 50 punti base i tre tassi. Cosa succede ai mutui? Chi ha un mutuo medio a tasso variabile, secondo i calcoli degli esperti di Facile.it, potrebbe avere un ulteriore rincaro della rata di 35 euro. In soli 14 mesi, quindi, l'aumento potrebbe arrivare a circa 237 euro, vale a dire il 52% in più rispetto alla rata originale. Sempre secondo gli esperti, se a giugno l'Eurivora a tre mesi toccherà la soia del 3,80%, il tasso di finanziamento medio arriverebbe a circa 5,04% e la rata a 740 euro, rata più alta rispetto ai 280 euro di gennaio del 2022.